Accogliamo nei nostri studi i sindaci vincitori delle recenti amministrative. Con noi quest'oggi è il sindaco di Valbrona, riconfermato Luigi Venere, che ringraziamo. Una affermazione brillante, sicuramente netta, più del doppio degli avversari per la lista civica La Nostra Vale, che riconferma la guida del paese di Valbrona, l'amministrazione guidata da Venere. Sì, abbiamo avuto veramente una grossa soddisfazione, specialmente in questo secondo mandato, perché non ce l'aspettavamo, perché essendo con tre liste e due delle quali abbastanza molto agguerrite, non pensavamo di avere un margine di distacco così elevato. È stata una grande soddisfazione per me e anche per tutta la mia squadra, perché veramente avere avuto così tanti consensi da parte dei nostri cittadini e che colgo l'occasione per ringraziarli. Veramente una cosa molto, ma molto bella, molto bellissima. Quindi c'è spazio per questo secondo mandato che vi consentirà di portare a compimento quelle opere che per un motivo o per l'altro sono rimaste ancora inattuate, parzialmente o del tutto. Sì, allora nel primo mandato abbiamo iniziato dei lavori che sono abbastanza importanti, ma che comunque sicuramente per la nostra Valborona non bastano, perché Valborona ha bisogno di molto e noi siamo qui pronti praticamente per poter effettuare tutti quegli interventi di cui necessita, perché a Valborona necessitano oltretutto interventi per ciò che riguarda la riqualificazione dei centri storici per ciò che riguarda i marciapiedi e poi oltretutto anche interventi sulla piana del Foce, perché abbiamo, ci è stato segnato un contributo abbastanza importante per riqualificare tutta quest'area, un'area importante, interventi appunto sull'arginatura del Foce, per le varie valli, le vallette, l'allargamento del laghetto di Visino, interventi di riqualificazione e di arginatura di altre valli e per la realizzazione di una pista ciclopedonabile per consentire anche un interesse turistico rilevante, perché l'anno scorso siamo intervenuti sulle spiagge a lago, quest'anno abbiamo deciso di intervenire, appunto come ho detto prima, come ricettività turistica sulla tutta la piana del Foce, visto che finalmente dopo quattro anni ci hanno segnato questi importanti contributi. Continuerete a lavorare, quindi senza sosta almeno vi consente questa affermazione di portare a cumplimento il programma anche nei prossimi mesi estivi? Sì, perché noi abbiamo presentato un programma veramente mirato, interessante, in cui ogni cittadino potrebbe, diciamo, seguire passo per passo tutti i lavori che verranno realizzati dal nostro gruppo in questi prossimi cinque anni e questo programma riguarda molti interventi che spaziano dall'area sociale fino ai lavori pubblici, alla cultura, allo sport, al turismo e anche interventi per ciò che riguarda le strade, agro silvio pastorale, la montagna, ne stiamo già in corso di realizzazione, di manutenzione di queste strade e se ci saranno altri finanziamenti, come prevedo, altre strade di interesse turistico verranno riqualificate. Soprattutto adesso che la stagione estiva è ormai alle porte, quindi Valbrona si sta preparando anche ad accogliere i turisti? Soprattutto ora, perché è veramente molto, ma molto fastidioso, anche se effettivamente è una certezza sentire sempre dire che nei nostri paesi non c'è niente, non si fa niente, i giovani vanno altrove, cioè basta, non si può più, è una cosa che è pesante, è pesante sentirselo dire e per un amministratore ogni volta che senti queste parole pensi che devi fare qualcosa, perché non è più possibile che una volta ritornare, sempre una volta, adesso bisogna riportare il turismo con molta ricettività, con idee moderne, anche, come dicevo anche prima, sul torrente Foce, che innanzitutto dovrà servire per ciò che riguarda la mutazione, ma parallelo al Foce verrà realizzata una pista ciclo pedonabile, oltretutto, che servirà anche ai disabili, con le carrozzine, per poter, diciamo, accedere e per poter portare anche tantissimo turismo in quest'area. Pensate anche di intervenire sulla sicurezza della viabilità? Sulla sicurezza della viabilità sicuramente, perché non sono bastati praticamente i vari attraversamenti pedonali che abbiamo fatto, anche con segnalatori luminosi, per ridurre la velocità. Siamo sempre stati un po' resti all'introduzione di mezzi che per ridurre la velocità sanzionano, ma qualcosa dovremmo fare, non per sanzionare, ma proprio per la sicurezza. Ci sono vari dispositivi che praticamente possono ridurre senza andare a toccare le tasche dei cittadini. Per quanto riguarda la squadra, la giunta rimarrà la stessa? La giunta no, perché la nostra squadra della precedente amministrazione si sono aggiunte altre persone di provata esperienza amministrativa pudina e la pubblica amministrazione e a breve, a giorni sicuramente, assegneremo gli incarichi. Quindi ancora presto per poter svelare la squadra che la accompagnerà nei prossimi cinque anni? Beh, diciamo un paio di giorni. E quindi in bocca al lupo per questi ulteriori cinque anni di amministrazione a Valbrona, il Consiglio Comunale per quando è previsto? È previsto, diciamo che dovrebbe uscire il 5 di giugno e comunque non entro il 15, dal 5 al 15 di giugno ci sarà il prossimo Consiglio Comunale. Le lasciamo il microfono ancora per qualche secondo per ringraziare e salutare i suoi cittadini. Io ringrazio tutti i cittadini che ci hanno permesso di amministrare il nostro paese, la nostra bella Valbrona nei prossimi cinque anni. Sicuramente faremo di tutto e di più, non solo del nostro meglio ma ci daremo da fare tantissimo anche perché, come ho già detto, abbiamo praticamente tutti i requisiti penso per poterlo fare.